Everybody is free I feel good Ho deciso di iniziare il mio programma in GetFit perché ultimamente mi sentivo molto stressata per via del lavoro e anche dei problemi che ho riscorso in famiglia come la perdita insomma della mia mamma non ho sofferto più di insonnia da quando ho aumentato l'attività fisica ho iniziato a fare programmi di rilassamento quale yoga e pilates quindi mi sento anche la mattina meno ansiosa e affronto la giornata in maniera diversa e anche con lo spirito che poi la sera vado sempre in palestra ritrovo comunque un ambiente abbastanza socievole paragono la GetFit come un osi di benessere perché non solo riesco a conciliare l'attività fisica ma anche a migliorare psicologicamente per tutti i servizi che offre ho avuto anche dei miglioramenti per quanto riguarda la circolazione perché avevo avuto sempre problemi comunque riguardo per via della pressione bassa quindi facendo anche la zona tutta relax e la zona in spa ho avuto anche un beneficio aggiunto in questo punto di vista consiglio a tutti i miei coetanei anche più senior e più junior di intraprendere un percorso in GetFit perché comunque aumenta la qualità di vita di ciascuno di noi e affrontare in maniera diversa proprio l'attività quotidiana che il mondo lavorativo e anche scolastico, accademico richiede